è il 23 luglio del 2023 sono le 6 e 30 di mattina siamo all'alba nel campo grande del cacio di spadola oggi ci sarà il raduno degli slero ranch con un sacco di sponsor con radio serra che farà la diretta live e poi vedete ci saranno stand giostre per bambini potrete assaggiare panini buonissimi tanto divertimento giochi gare e questa sera premi quindi vi aspettiamo alla terza edizione del raduno più bello della calabria un saluto a tutti da gij guardate che bello la professionalità di prima mattina con gli idranti per ammorbidire e bagnare il terreno dove si svolgeranno a breve le gare vi aspettiamo per la prima colazione oggi alle 8 e 30 e poi subito passeggiata a cavallo immersa in questi meravigliosi boschi mozzafiato in diretta dal campo grande di calcio a spadola il vostro gij oggi prima intervista col signor donato cosa ne pensate di questo raduno bello bello clima bel sentite da dove venite e che cavallo è spieghiamolo un incrocio frisone senta per coloro che ci guardano è difficile mantenere un cavallo e come mai si muove nervoso perché spieghiamolo perché sempre gli altri cavalli in calore o gli altri maschi va bene grazie e buon divertimento grazie grazie ancora in diretta dal campo di calcio di grande a spadola isle rorencio col signor corica bruno senta mi diceva che è più vecchio il cavallo del camion quanti anni ha questo cavallo di 30 anni che razza è questo è un anglo arabo e senta da dove venite la renova è la prima volta che io vengo in questa escursione sì ma escursione ha fatto tantissime tantissime senta per coloro che ci guardano cos'è il cavallo per me dopo mia moglie e miei figli il cavallo viene al terzo posto perché perché viene al terzo posto per me il massimo essente per il mio ob è il cavallo però con la moglie e i figli che sono la prima cosa che esiste al mondo per me viene il cavallo per coloro che ci guardano avere un cavallo è molto dispendioso che consigli assolutamente assolutamente io penso che costa più tutto rispetto per i cani un cane costa più di un cavallo per un cane se tenuto giusto costa a livello di cavallo senta come ora non costa tanto come è riuscito il discorso che lo dicono quelle che non sanno che non hanno il cavallo senta come è riuscito a far sì che questo cavallo arrivasse a questa età avanzata ma è un cavallo che l'ho tenuto abbastanza bene da 18 anni che c'ho io vediamolo è vecchietta adesso ma che razza è? è un angloarbo ancora una passeggiata la faceva un paio di passeggiata quanti kg posso portare un cavallo di solito? ma non lo so questo non è grosso come cavallo però io non sono neanche pesante come pesa si si e come alimentazione cosa mangio spieghiamo io a questo gli do avena crusca non mangiare vecchio diciamo poi ho altri a casa poledri gli do qualche un po di mangime mi hanno detto non so che è vero che il cavallo sente il pericolo se voi siete nella neve e davanti a voi c'è un buco ma con la neve non riuscite a vederlo se io vi dico alcune cose di questo cavallo non le dico perché non mi credete dite prego e vabbè un anticipo un assaggio per coloro che ci guardano per coloro che ci guardano allora erano praticamente ero quasi come dite voi in un buco in un fosse in un burrone in un burrone bravo il cavallo io non l'ho visto cioè in un attimo l'ho tenuto nelle mani e il cavallo si è girato così e ha messo i piedi davanti già i piedi davanti ce li avevo fuori i piedi li ha messi un secondo il cavallo conosce il pericolo certo vedo il pericolo come no mi hanno detto anche che il cavallo vuole sempre acqua pulita fresca certo certo non è come gli altri animali che la bevono no no c'è la beveratoia e bevono là dentro certo va bene allora vi auguro buon raduno grazie e speriamo che le serre e il posto qua sia di vostro gradimento grazie grazie arrivederci ecco i primi arrivi al raduno più bello della calabria di slero ranch buongiorno in diretta live buongiorno una domanda che che cavallo e vediamo quarter quanti anni sette e l'altro da dove venite se vi posso chiedere catanzaro grazie il terzo equi raduno perché tutti gli altri sono stati un successo guardate quanti sponsor guardate io non li commento tutti li vedete con i vostri occhi sponsor aiuti perché perché sono in gamba sono in gamba ci salutano in diretta vedete salutiamo gli emanuele di mongiana che sono arrivati con i loro cavalli ci hanno salutato e li salutiamo e qua vedete un sacco di sponsor tantissimi che la gente si fida di loro crede in loro e giustamente essendo un raduno conosciutissimo ormai nelle serre calabre la gente sa che il ritorno di pubblicità è sicuro al cento per cento ancora in diretta da uno dei più be raduni della calabria e slero rence campo di calcio grande a spatola in compagnia del signor giuseppe tegani oggi perché qui per assistere a questo evento che da tanti anni che è il terzo equi raduno sia il terzo raduno ad ogni anno qui si radunano tutti e tutte le persone tantissima gente e quindi perché non far conoscere anche i vostri prodotti ottici tipi sentite ma voi da dove venite a soriano calabro e per chi non lo conoscesse soriano che tipo di paese è un paese di commercio e industriale che come come può vedere qui è tutto tipici calabresi di tutti i prodotti allora partiamo dai primi cosa sono i mostracioni al miele un prodotto tipico sorianese è fatto di miele e di farina e poi ci sono tutti questi proprio queste sono delle varianti il classico mostracciolo di soriano ma sono duri o morbidi no sono duri e morbidi ne abbiamo alle mandorle o alle mandorle questi qui sono licini alla fragole al pistacchio e voi vi chiamate la ditta tigani che lo vediamo qua che via siete via mattia preti un telefono una pagina facebook il numero di telefono e 389 09 27 187 senta qui vediamo alle sue spalle invece le mandorle zuccherate zuccherate che si fanno con quell'apparecchio lì diciamo si tostano ecco invece per quanto riguarda questo tipo di caramelle che ormai i bambini ne vanno pazzi sono quelle gommose sono le classiche queste ormai da una vita poi abbiamo lo zucchero filato sentite a proposito di zucchero filato un dolce che non mangio dagli anni 90 quanto è cambiato agli anni 90 oggi la gente ancora ci sono persone tipo persone degli anni 80 90 che quando lo vedono lo vorrebbero all'infanzia capito ricordano sempre i tempi i loro tempi quando erano piccoli ragazzi sentite spieghiamolo come fatto questo è fatto con il zucchero si mettono senza blu cioè come come fatto lo zucchero filato spieghiamolo questa è la macchina ecco si mette lo zucchero si mette qui dentro allo zucchero di casa dentro e lui spara lo zucchero fuori dalla testata e poi con questa si prende lo zucchero con legno adesso più tardi lo facciamo a origine antiche è una vita non si ricorda il zucchero filato senta come mai a soriano ormai è diventata cardine della pasta di mandorla che in realtà parte da dagli arabi arriva a sicilia e poi si sposta al carabio perché soriano ormai oramai fa di tutto capito è un paese talmente industriale e di commercio che si commercia tutto tra l'altro mi dicevano a soriano assoriano hanno girato anche qualche fiction e quindi questa è una cosa bella per le serbe per la carabio poi chi lo viene a visitare e rimane sempre stupito sentite una pagina facebook tigani filippo la pagina facebook poi per seguirvi si si poi riguardo riguardo sono le tradizioni capito le nostre origini quindi e da 500 anni sentite re il signor filippo siamo cugini siete cugini buongiorno senta qual è il dolce più preparato a soriano i mostaccioli i mostaccioli e hanno origini antiche sì penso che noi siamo da cinque generazioni che facciamo sto lavoro il mio bis bis nonno faceva questi prodotti ed era conosciuto in quei tempi antichi ancora c'ho le foto del mio bis bis nonno io che all'epoca non usavano neanche le foto che c'erano i ritratti all'epoca i ritratti col pennello i ritratti sì sentite cosa ne pensate oggi di questo raduno ma già è la seconda volta che parteci poi io qua questo raduno una bella giornata un bel clima proprio bella gente che si divertono e fanno queste sfilate con i cavalli che qualcosa di veramente sembra di essere nel far west in questi e questa è una cosa importante divertirsi per non dimenticare va bene io vi auguro di vendere tutto grazie grazie di divertirmi con l'isla rorence e aspettiamo tutti è una bella manifestazione venite a trovare inizia qui a spadola assaggiate anche i vostri prodotti tipici abbiamo grazie e buon lavoro arrivederci buona giornata vi aspettiamo il 20 agosto al raduno di serra orse se sarà un successo un saluto a tutti da gij come vedete stanno percorrendo il fiume acinale che tra l'altro sono riusciti anche a pulire e a rendere migliore tutti i cavalieri dell'isla rorence che si dirigono adesso uniti come una grande famiglia salutiamo già da arena vedete si dirigono salutiamo spatola damiano buongiorno salutiamo anche guardate il numero uno col suo cavallo che la mamma mi ha detto mi raccomando fai un video a mio figlio eccolo qua salutiamo pupo insomma tutti si dirigono nel campo grande per poi ritornare indietro passare al di sotto del ponte percorrendo l'ancinale arrivano al fiume arvo per poi salire verso la montagna passeggiata a cavallo che partirà tra un po dall'isla rorence campo grande di spadola quindi vi aspettiamo numerosi non solo per coloro che amano i cavalli gli animali ma anche stare insieme divertirsi trascorrere una giornata diversa dal solito in compagnia di questo meraviglioso amico a quattro zampe tutto organizzato al meglio ci sono le guardie ecozofile l'ambulanza ci sono le bancherelle poi c'è lo stand di radioserra dove ci sarà oggi una giornata in diretta live ma non solo anche tantissimi chef cuochi a disposizione per la preparazione di ottimi panini buongiorno siamo in diretta live su facebook il signor francesco da dove da pargelia e il signor sempre da zambrone zambrone quindi io a tirrenica sentite che cavallo è questo un angolo arabo e come peso sui 700 perché ha scelto questa razza l'angolo arabo veramente fatto io l'incrocio come tra un puro sangue e un arabo è un arabe perché proprio questo incrocio rispetto ad altri per vedere cosa è uscita una bella cavalla è uscita una bella cavalla va bene grazie ciao arrivederci buongiorno oggi ci troviamo col signor salvatore francesco da dove venite io da vipo valenza c'è la ionica libro di cosa ne pensate del terzo equiladuno di meraviglioso come ogni anno va bene grazie a rifare solo in un altro periodo della stagione magari con la neve in inverno sarebbe il caldo ottimo ottimo oggi è ottimo grazie grazie ancora vedete c'è simone greco che lo conosciamo tutti con il trattore vedete la professionalità l'impegno la passione che c'è in questo settore dell'isle lorence hanno bagnato prima tutto il terriccio adesso lo hanno apparato col trattore iniziano ad arrivare un sacco di cavalieri oggi si parla le stime più o meno dicono del 150 cavalieri e sono tantissimi le serre calape sono un territorio montano tra lo ionio schirreno abbiamo soverato a 20 minuti d'auto quindi voi dormite al fresco senza zanzare andate al mare cosa volete di meglio e qui tutti hanno la passione del cavallo uno su tre ama gli animali e quindi per questo io dico venite a vivere in questo territorio fantastico perché qua la gente è umana già conoscere persone che amano gli animali in modo spropositato è una cosa bella è buongiorno guardate tutti che entrano dentro la prima vedete che salutiamo è una delle figlie degli organizzatori dell'isle lorence del signor raffaele ranieri i cavalli iniziano a riscaldarsi e a prepararsi a questa meravigliosa camminata in questo contesto dell'isle lorence del terzo e qui raduno di spadola e noi siamo qua sul ponte ad aspettarli ed eccoli in arrivo tanti altri cavalieri salutiamo signor tucci buongiorno guardate che meraviglia padre figlio passione unica del cavallo salutiamo anche il figlio del signor grenci che tutti conoscono per le meravigliose pipe e poi guardate quante scuderie buongiorno buongiorno guardate quanti nuovi arrivi tutti in un'unica famiglia il figlio del signor carla come vedete super palestrato anche lui salutiamo lo sponsor fodi di questa squadra dei gallè e mi raccomando venite al cinema che hanno creato ed eccolo il signore manuele buongiorno con serra orse se con figli a seguito eccolo come un principe con questo cavallo che ormai veramente ha fatto l'icona delle monde equestre buongiorno e buon inizio salutiamo damiano la frutta migliore della calabria anche col cavallo grande passione buongiorno buongiorno e salutiamo antonio ierace col suo bellissimo arabo grande ragazzo lavoratore nei boschi ma soprattutto la passione del cavallo un saluto dei cavalleri della piana dalla piana di gioia tavolo ed eccolo emanuele buongiorno 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 e buona passeggiata buongiorno una squirata di esemplari stupendi immersi in un contesto naturalistico mozzafiato ed eccolo il nostro Fodi che salutiamo buona passeggiata grazie benissimo è estate ed eccolo Vito Coda che salutiamo dalla macelleria di Sim ed ecco Vito Coda col figlio guardate quanti cavalieri ancora guardate guardate ed eccolo Minichini e il signor Callazzo Ancora Buongiorno buongiorno Vedete persone felici con la passione del cavallo che li accomuna uno sport che sta prendendo sempre più piede nelle serre Calabre Associazione Cavalieri Preserve Guardate Buongiorno e buona passeggiata Vedete ci troviamo sul ponte di Brognaturo per farvi vedere come stanno le cose Li vediamo di spalle Li vediamo anche frontalmente Un sacco di gente e curiosi amanti della natura Venuti qua oggi a vedere questo meraviglioso raduno di Islero Ranch E adesso in fondo gli ultimi cavalli della Islero Ranch con le loro t-shirt azzurre Ed ecco lui Cosimo e Simone Bertucci con i loro cavalli Saludiamo gli Emanuele con figli a seguito simpaticissimi Giuseppe Capone e tutta la squadra di Islero Ranch Guardate quanto è lunga la fila dei Cavalieri di Islero Ranch Salutiamo uno degli organizzatori Raffaele Ranieri Islero Ranch con la sua famiglia e i suoi nipoti E adesso ci spostiamo salutiamo Giada Arena ci spostiamo nella zona di Arvo dove loro saliranno alla montagna Salutiamo anche il signor Cosmino Buongiorno 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 a voi E buona passeggiata Buona passata voi Sì E come vi dicevo proseguono per Arvo Ciao Andrea Ed eccoli che stanno attraversando il fiume salutiamo ancora ai signori Gerace il fantino mi suggeriscono fantino antonio verace ed eccolo spatola andrea al galoppo guardateli che meraviglia attraversano il fiume ancinale salutiamo tua mamma che mi ha chiesto proprio di farti un video speciale grazie grazie si fa quel che si può buongiorno vedete andare anche a cavallo è un modo per far scoprire e scoprire i territori delle serre calabresi buongiorno buongiorno a tutti e buona passeggiata guardate che meraviglia attraversano l'ancinale il fiume che porta sfocia in quel disoverato ci arrivano addosso gli schizzi ma fanno parte anche di questo servizio vito coda torna indietro per assistere il figlio perché il cavallo si è impuntato che non vuole attraversare il fiume lo prende per la capizza e per le redini cerca di tirarlo il cavallo si convince a non avere paura